La casa è in fiamme, uno slogan, una protesta, una protesta creativa fatta con l'arte di strada e organizzata da Alex Sinshio Ribello nel Friday for Future. Qual è il messaggio che il movimento vuole dare? Il movimento vuole allertare la popolazione, vuole chiedere alla popolazione cosa fai se la casa è in fiamme. Agire come se la casa fosse in fiamme perché lo è. La terra si sta surriscaldando il consenso scientifico internazionale ci mostra come le emissioni di Casserra stanno portando a un collasso climatico stiamo annichilendo la biodiversità, siamo dentro la sesta estinzione di massa. Non possiamo rimanere indifferenti mentre la casa brucia. Quali sono le proposte che voi fate e a chi è diretto il messaggio? I movimenti pongono una critica radicale ai governi che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza e il benessere della popolazione ma che non lo stanno facendo. Chiediamo loro di dire la verità, di agire con immediatezza per azzerare le emissioni e fermare la perdita di biodiversità e chiediamo di instaurare delle assemblee cittadine per trovare delle soluzioni ragionate ai problemi. Allo stesso tempo cerchiamo di parlare con la popolazione, arrivare a loro ai cuori e alle menti delle persone per dire che c'è un problema, non possiamo rimanere indifferenti. Facciamo anche una critica ai media, media molto grandi che spesso sono influenzati da grandi multinazionali del fossile come l'Eni che mettono il proprio zampino sporco di petrolio e non permettono che passi il messaggio della transizione energetica che è necessaria. Ormai sono passati alcuni anni da quando il simbolo di questa ribellione che è Greta Thunberg ha lanciato l'allarme. Molti giovani vi siete uniti, i movimenti sono nati, ma che cosa è cambiato? Molti giovani ci sono uniti, tante persone si sono rese conto che la casa in fiamme hanno iniziato a protestare e a ribellarsi, ma ci troviamo ancora in uno stato di totale negazione del problema. Nella maggior parte dei casi il problema viene sottovalutato, non abbiamo come popolazione una conoscenza scientifica sul problema, quando per esempio ce l'abbiamo sul Covid, semplicemente per il fatto che chi è in una posizione di potere non parla come se fosse un'emergenza. Non dice alla popolazione, chiaramente ci troviamo in una situazione drammatica, se continuiamo così nei prossimi decenni la vita non avrà più un clima abitabile. Per fare un esempio, quello della Sicilia. Il nostro territorio, il centro nazionale di ricerca, è al 70% a rischio di desertificazione. Cioè significa che in un territorio in cui ci sosteniamo attraverso l'agricoltura e nel cui abbiamo grandi problemi di dissesto idrogeologico, dovremo scappare. O ci facciamo la guerra per le poche risorse che rimangono, per quel poco di terra che ancora sarà coltivabile. Quindi questo è un messaggio che bisogna comunicare e bisogna dire alle persone che bisogna agire con urgenza.